La partita più difficile secondo me è quella di domenica, ci troviamo di nuovo a dover riaffrontare una ripresa del campionato e spero onestamente come sicuramente per tutti i colleghi questa sia l'ultima, non è facile sicuramente, veniamo da una buona prestazione fatta due domeniche fa a Casarano, però adesso dobbiamo essere bravi noi. La ragazza si è presentato bene, si è allenato nella sua ex squadra, si è presentato in ottima forma, quindi già pronto per giocare, però con noi si è aggregato il giovedì, quindi a me non piace improvvisare, dobbiamo capire bene quale sarà la miglior scelta, sicuramente farà parte della partita e non ho ancora deciso se farlo partire dall'inizio oppure no, perché abbiamo anche qualche acciacco che ci portiamo fino a domani, quindi le decisioni riguardo alla formazione saranno dovute anche a questo. La squadra, a parte Matuto e infortunato, sta bene e per il resto è pronta per affrontare questa partita.